Cubo transitato Macchina transitata Fabio Franco, Franco da Fabio Fabio avanti E' arrivato il cubo Sì, vado a te, rimuovete, mi chiamò sempre avanti Ma il cubo è arrivato Faccio tre volte, sì Adesso ti ho copiato C'è questo carbone, se no Tra qualcuno ripartono, a tutta la maglia Oh, che dici, che ti hai detto Tutta la maglia, tutta la maglia, siete operativi? Ok, grazie Antonio, ok La macchina è quasi in partenza Sì Sì Fabio, Fabio Adesso che arriva la macchina fammi sapere Che c'è una persona che vuole scendere Ok, la conferma di farlo scendere te lo dico io Perché questo poi riparte subito Non lo farai muovere Capito, capito Devi aspettare che la macchina riparte subito Mi hai copiato? Ok, ok Franco, la macchina è partita Ok, ok Ripartita Ricevuto Fabio 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 Avanti, Franco Adesso che arriva Mi dici, lo facciamo partire Dico, questo quando parte te lo dico io Perché mo' fa 5 giri Sì, si è affidato Questo non mi aspetta nemmeno un secondo Non ti aspetta nemmeno un secondo Chiamano l'elicottero e si fanno il P Sì Sì, sono senti l'invento perché ha detto che lui non ha trovato cartelli Non ha trovato niente per fermarsi Dovrà mo' 10 minuti, un quarto d'ora ha finito Sì, tu io non ci posso parlare con questo C'è un'invento e dice Ma dove hai il cartello e quindi c'è l'invento? Franco Che è super di farci in modo calmo questo signore Che c'ha 10 minuti di pazienza Lo facciamo passare Lui che non lo seguiamo lì 10 minuti di pazienza E va a casa dove vuole lui Monica, tu hai perfettamente ragione Ma questo c'è 10 minuti abbondanza che sta qua Più di 10 minuti che sta qua, no? E l'ha detto ormai Mi sono rotto per pericolosi la casa Da questo è mo' fa il terzo giro Quindi vi mancheranno altri due E' veramente questo giro in pochino Ascolta, io mo' glielo dico E dopo che... Guarda, passamelo a me Oh Monica, aspetta un momento, mo' ti parlo E quando riparti? Sta ripartendo, Franco Va bene Monica, va bene Ok Fabio E' partita adesso Monica, perclusamente convinta Ho capito, io ho tentato di andare su La mia 17 minuti di questa zona di settembre Ah bene, muovete, 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 dov'è andare su Franco, Franco da Fabio Ok Puoi mandare giù però fallo venire fino al rifugio delle avvie Perfetto, fallo partire, dimmi che macchina è, grazie Ascolti, ho una panta bianca Ok, lì ti accelderà, grazie Non ho copiato, Franco Dico, sta per partire Ok, fallo partire Oh Fabio, un secondo, che andate, devo partire I piloti stanno aspettando Ho capicito in questa macchina, fammi sapere, ti conferma se puoi scendere Stai scendendo, stai scendendo, dai Fabio, Fabio Avanti L'Audi pure Non ho capito, Franco Notai Franco, non ti copio Fabio, dopo la panta, il pilota con l'Audi Ricevuto, grazie Sì, la prega Ricevuto Tutta la maglia, tutta la maglia, la macchina sta per partire Ok Oh, hai copiato? Copiato, ho copiato Franco da Fabio Sì Tieni premuto, conta fino a tre, poi cominci a parlare Voglio andare pure Sì Tutta la maglia, la macchina in partenza Ok Sì, da Tutta la maglia, tutta la maglia, la macchina in partenza Ok Ho copiato I panini dopo, a più terzi Beh, andò, io mo, che ne so, questi qua giù hanno mangiato Che ne so, io andò Eh, eh, diglielo Alfredo, a noi qua su, quella non si è fermata, non ci ha lasciato niente Andò, è stata mezz'ora da noi Ma se ne andate, non lasciate niente Oh, fraccio, andò fregato, come al solito, quelli stanno a mangiare giù sotto e noi sentiamo solo freddo, giusto? Ma il messaggio di me non si è chiesto e mi potesse venire Questa è partita Antonio, Antonio da Fabio Eccomi Fabio, dimmi Appena posso dire, te lo portiamo Grazie Fabio Antonio, in realtà la macchina che c'è la porta inizia L'avrebbe dovuta fermare da te e la stracola Ma nessuno non si è chiesto, io non lo sapeva, poveretto E poi rimasta dentro Ma appena posso dire il senso, poi te lo porto Eh, neanche da Adriano e Mirko si sono fermati Guardi, te lo porto, andò per me Sei fatto bene, riportate la macchina tua E' rimasto, e' rimasto Giro, puoi iniziare a portare E' partito, e' partito E' partito Ti sento? Si, si, se cazzo cominciano Troppo, non sapevo quanto tempo Allora tu sei sereno, hai capito? Adesso piace i parchi Poi chiedono proprio un solo per dice Quando ci sta proprio risciuto Ma no, ma Ma quando, magari hanno cominciato Tu fammi sapere quando si sta a riempire Così pazzo Si, si, ok, ok Appena succede che si si a riempire sotto Salgo Guardando le cinghe ci stanno Per colpo E' matta, mancia tutto Tutta la maglia, tutta la maglia Antonio, Emiliano Antonio, eccolo Antonio, Antonio da Fabio Dimmi Fabio Vai in fondo con Franco Che non lo sento La macchina sta quasi per partire Ok Franco, Franco da Antonio La macchina sta partendo Hai copiato Franco? E' partita Ok Ok Ho avuto Un attimo E ti dico se me lo puoi mandare Giro, me lo puoi mandare a 12 12 Me ne devo dire giro se non hai capito Manda con le 13 Ok Tutta la maglia, tutta la maglia La macchina in partenza La macchina è partita Franco, Franco mi copi Sì, scusa, hai capito Noi ci bloccavamo Tant'anno Ma ancora non è C'è quello che inizio Ce ne sa parte Franco, Franco da Fabio Ok Tra qualche minuto riparte Tra qualche minuto Sempre quando riparte Poi le rosse No, poi le rosse Ingazza, no No, ma te che l'ingazza Tra qualche minuto riparte Mai senti il rumore Senti il rumore Senti il rumore Sento la persona Che si è tranquilla Le rosse Scherzo Scherzo Tutta la maglia, tutta la maglia La macchina è in partenza Oh Franco, ma come la senti? Eh, dipende Come me lo... La macchina è a parte Ok Ok Sì Soppa squad La macchina è in partenza Ok, ok Partita per partire Sì, ok Dove ho fatto? Ok 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 Tutta la maglia, tutta la maglia La macchina è in partenza Ho capito, ho capito Grazie Ok 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 Secondo l'otto Qual è la... Comunque ci siamo L'adeguato Tutta la maglia, tutta la maglia La macchina parte Ok, ok Ok Sì, romi i ricevi Mentre me ne 10 15 15 Manda me ne 15 Ricevuto Sì, romi i ricevi Sì, romi i ricevi Sì, romi i ricevi Nessuna, parcheggio Vedo vuoto Ok Vedo ma Non abbiamo capito Che deve fare Non lo so La strada è più a piedi Ma la strada C'è la strada La macchina Sta sulla strada Sì, la macchina Sta sulla strada Sì, romi i ricevi Sì, romi i ricevi Riparti da destra Stai a destra Ok Grazie mille Ok 100 euro A tutta la maglia Stanno per ripartire Ok Ok, ok Ci hanno ripensato Mi faccio sapere Tra qualche minuto riparto Tutta la maglia Tutta la maglia Macchina in partenza Tutto ok? Franco, Franco Tutto ok? Tutto ok Ok, macchina partita Tutta la maglia Tutta la maglia Siamo liberi Raccogliete cartelli e pittori Grazie Avete copiato? Ok Ok, ok Senti, io ho i birilli qui alla curva Li raccolgo pure, giusto? Sì, sì Tutto quello che è nostro Ricendete tutto Grazie Ok Ma lo senti? Chi sei? Ok E va bene Con che antenna vai? Ah, ok, ok Direzione X300 7.900 7.900 Eh, 2.3 Eh, si aumentano i due punti 4.5 Dai, 4.5 E adesso 5.6 Adesso è più fisso il 5 Insomma, 5 ogni stanza accende il 6 Ok, va bene Va bene Va bene Allora, io c'ho un po' di Stai ragazzi qua a parlare con i Brondini Non so Eh, però mi arrivano abbastanza bene Infatti Prima ti infastidivano un po' 4.3.3.5.0.0 Allora, io c'ho un po' Allora, io c'ho un po'